Amici benvenuti in questa seconda puntata di Crash Royale Volevo fare un video su The Sims Ma però non potevo perchè Ryan Gamer ne ha detto di giocare a Crash Royale Comunque hanno fatto degli aggiornamenti qua Adesso vi faccio vedere io contro Ryan Secondo me perderò Comunque Ryan scriverà sui commenti Che voi non dovete iscriversi via al canale mio Invece voi dovete fare così Cioè non ignorarlo E poi ne Intanto non mi sente Ryan quindi Quindi ne Che subito con il suo principio è una muccia E anche con i... Io non ho quei robi E' subito ammazzata I barbari Ma che cosa ho fatto? Vabbè intanto i miei barbari stanno andando Hanno fatto un aggiornamento che ci sono anche carte più fighe Robbe strane Mi stavo per ammazzare Scrifoso Ok dai Se lo pronunci dai Ammazziamo il moschettiere Dai Principe Principe Un sol'altro Tutti che ammazzano Si sono suicidati Vabbè intanto morirà da solo Tanto io uso il mio mini pecca per ammazzare Adesso fa dei rumori strani Fuori dell'altro episodio però Li faceva Più belli Dai Dai che ho l'elizia per due Posso fare anche questo Il raggio non ce l'avevo nella scorsa puntata però Cioè me l'ha ammazzato subito Ecco lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Vabbè Questa volta ce la farò magari Uso il replay se è gay Perché li metti in mezzo No non ho paura Qualcosa mi ammazza Sì prima di morire ha lasciato una bomba Dai Principe vieni da me Dai Dai Ryan non mi scopre magari Speriamo Speriamo Il drago non ci voleva Ammazzare No Quello 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 Il barbaro ce l'ha fatta Grazie al barbaro abbiamo vinto Dobbiamo usare il moschettiere altrimenti se mi prende darle il drago Allora dobbiamo ammazzare anche quello Il mio moschettiere Sì moschettiere con due moschettiere Moschettiere di Ryan Tanto puoi morire subito dal mio arciere Comunque sono un gatto delle nevi blu Potenza dei gatti delle nevi blu Delle streghe dei gatti delle nevi blu Il principe no basta Basta principe Basta principe Basta principe Basta principe Basta principe Sono un pochino pazzi Sono un pochino pazzi Le partite con Ryan Ci vorrebbero Moschettiere ciao Dai Moschettiere Moschettiere Stai ragazzi Eh sì Era l'incorso Eh li distraggo con i barbari Intanto non fanno niente Secondo me Arrivremo a pari Non dovevo arrivare a pari Perché sennò concludiamo il video così Mi sembra Intanto stavo avendo ammazzato la torre Comunque vi ringraziamo tantissimo per essere stati con noi E alla prossima Di Matteo Ciao Faccio un sacco di danè